Saniverde, Consiglio Comunale a Forio, partiamo innanzitutto dall'intitolazione a Mazzella, c'è stata anche una discussione, il Consiglio Comunale ritorna comunque in questa sala, diciamo ritorna a casa. Allora, il problema sull'intitolazione è stato un problema di mancanza di comunicazione, bastava, come abbiamo chiesto più volte, un po' di comunicazione da parte della maggioranza, quindi rendere partecipi anche i membri dell'opposizione di una scelta che per la mano del cielo poteva essere condivisa e sarebbe stato bello magari votare all'unanimità l'intitolazione della sala, invece no, puntualmente veniamo presi in giro perché ad esempio anche il giorno e l'ora della convocazione del Consiglio Comunale, è assurdo convocare un Consiglio Comunale alle 9 del mattino di un weekend prossimo al weekend di Ferragosto, ha messo in difficoltà varie persone come Gianni Mattera ed altri che non hanno potuto presenziare per motivi di lavoro. Non so cosa costi all'amministrazione, alla maggioranza, dialogare un po' con noi, ascoltarci, quindi anche venirci incontro. Anche i lavori del Consiglio sarebbero più snelli se ci fosse più democrazia. Sani, andando un po' ai punti all'ordine del giorno, tra le variazioni di bilancio, la programmazione, sostanzialmente voi dalla minoranza avete accusato la maggioranza di non avere programmazione. Allora, è sotto gli occhi di tutti. Il Comune di Forio, per colpa di questa amministrazione, vive alla giornata. Abbiamo fatto un esempio che tra i tanti esempi che potevamo portare è l'ultimo in ordine di tempo, è forse quello che fa capire in che modo operano, con quale approssimazione operano. Hanno previsto dei bagni chimici sulla spiaggia della Chiaia, su nostra sollecitazione, e i bagni chimici che non vengono puliti, che sono diventati veramente un ricettacolo di rifiuti e sono impraticabili. Questa è una cosa piccola, che però fa capire come quando manca la programmazione, come si facciano brutte figure, brutte figure per un paese che fa turismo significa brutte figure fatte con i turisti, brutte figure fatte con il mondo intero che ci guarda. E così l'asfalto viene messo in pieno giorno, causando ingorghi e fastidi a turisti e a residenti. E così il rifacimento delle strisce blu in pieno giorno. Da piccole cose, poi passiamo alle cose più importanti, che può essere la raccolta dei rifiuti. La raccolta dei rifiuti che viene fatta in orario non adatto a quelle che sono le esigenze di un paese turistico. Non possiamo fare la raccolta dei rifiuti a mezzogiorno, perché a volte ci troviamo a mezzogiorno che non è stato ancora completato il giro della raccolta. Sono tante cose che, unite a tanti disservizi, come la baia di Sorgieto che è abbandonata, le strade dissestate, il diserbo che non viene fatto, sono tante cose che messe insieme mettono in crisi il paese e in difficoltà anche chi fa turismo.